Ciao, io sono Gabriele Bonolis, direttore d'orchestra della produzione del Reate Festival che comprende due atti unici di Mino Rota, i Due Timidi e La Notte di Un Eversenio. E' una produzione, questa Terrate Festival, che apre questa edizione del 2017 e che vede in cartellone un numero del tosto elevato di giovani cantanti veramente molto molto bravi e interessanti, qualcuno addirittura debutta. La scelta del direttore artistico, c'è Andrea Scartone, che curerà anche la regia delle due pièce è stata quella appunto di offrirmi un gruppo di ragazzi con cui veramente sto lavorando in maniera entusiasta. Tra l'altro, giovani saranno anche i componenti dell'orchestra, che in parte sarà formata da una selezione dei migliori allievi dei corsi di confezionamento dell'Accademia di Santa Cecilia e per un'altra parte dall'orchestra giovani del Teatro del Modena. Quindi la sfida è molto stimolante, stiamo lavorando con grande approfondimento sotto tutti gli aspetti. Speriamo di offrirvi uno spettacolo di grande livello. Vi aspettiamo a Rieti, al Teatro Vespasiano. Come sempre, Nino Rota avvolgerà tutti noi con la magia della sua musica. Grazie.